Saluti a tutti. Oggi parliamo di un bene prezioso, sparso in tutta la terra, eppure talvolta abbiamo la sensazione che sia un materiale piuttosto raro. Benvenuto tra di noi. Si parlerà di cervello oggi con un neuroscienziato molto noto, il professor Pietro Pietrini, che è direttore della scuola di Alti Studi di Lucca, e appunto neuroscienziato, per entrare dentro questo misterioso organismo della persona. Allora, direttore della scuola di Alti Studi, che viene costituita a Lucca nel 2005? 2005. In 10-12 anni, voi mi sembra che l'anno scorso anno avete raccolto qualcosa come 3.700 accessi, di richieste di accesso. Come mai questa attrattiva della scuola? La scuola ha molta attrattiva internazionale perché è stata fondata nel 2005, dall'ora direttore e fondatore che è il professor Fabio Pammolli, con delle caratteristiche precise, per cui la scuola riunisce in sé un approccio multidisciplinare integrato, che vuol dire in termini pratici che noi abbiamo competenze diverse che dialogano tra di loro. Siamo pochi, almeno per il momento siamo pochi professori, ma con competenze che si intersecano bene l'una con l'altra e il nostro programma di dottorato, la scuola svolge al momento... Ci sono 5 i dottorati, mi sembra. Il dottorato è unico con 4 percorsi che sono tra di loro inubricati. Robotica, poi? Dunque, noi abbiamo automazione, ero ingegnere dell'automazione, informatica e big data con economia, poi abbiamo tutela del patrimonio culturale, quindi i beni culturali, cosiddetto, e poi neuroscienze cognitive e sociali che è quello che ho introdotto io con il mio arrivo nel 2015. Quindi studiate anche i sistemi politici? Studiamo il comportamento da vari punti di vista, quindi dalla scala economica, cosa succede nei sistemi micro e macroeconomici, cosa succede nel comportamento manageriale, quali sono quindi anche le tendenze economiche, gli influssi economici. Studiamo i processi sociali a vario livello, abbiamo una competenza molto forte di networks, di complessità, che poi è rappresentata dal professor Guido Caldarelli, che è vicepresidente della società mondiale di queste cose, quindi è un grande esperto. Quindi applichiamo queste metodologie in maniera trasversale. Ecco, facciamo un esempio anche per i nostri telespettatori che ci seguono. Fate grande ricerca applicata a centri di sviluppo della società, però come agganciate queste ricerche teoriche, per esempio, a un caso specifico? Prendete, per esempio, sott'esame un fatto, un evento, un caso e ci lavorate sopra, oppure? Beh, no, noi applichiamo, conduciamo ricerca, che è ricerca scientifica, i nostri docenti sono tutti ai vertici nazionali e internazionali per la ricerca. La scuola, nelle recenti classifiche dell'ANVUR, che è l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università della Ricerca, è arrivata prima assoluta in Italia, quindi con i criteri di valutazione. Avete preso anche un po' di soldi per questo. Abbiamo preso un po' di soldi per questo, perché il Ministero da qualche anno dà una parte di soldi che sono dati, come dire, distribuiti all'inizio, che sono il cosiddetto FFO, che è una sigla tecnica che significa il Fondo di Finanziamento Ordinario, cioè la dotazione che viene data all'Università perché possa funzionare. E la scuola porta a Lucca qualcosa come, su questa base fissa, 6 milioni di euro l'anno. Poi il Ministero da qualche anno dà una quota ulteriore di FFO, cioè una parte dell'FFO, viene data su base assolutamente competitiva, su base di merito, usando questi criteri che vengono valutati dall'ANVUR, dall'Agenzia Nazionale di Valutazione della Ricerca dell'Università, per cui noi siamo risultati primi assoluti, davanti alla scuola Sant'Anna, davanti alla scuola normale. Questo ha fatto sì che arrivino a Lucca, se sono arrivati quest'anno, arriveranno fino alla prossima valutazione, quindi per i prossimi 3-4 anni, arriveranno ben 1.294.000 euro in più l'anno per come quota il Fondo di Finanziamento. È una dischietta somma. La somma, diciamo, in assoluto può sembrare tanto, può sembrare poco, è tanto, e soprattutto è due volte e mezzo quello che noi avevamo stimato in maniera conservativa, abbiamo fatto meglio di quello che pensavamo di fare. Mi interessa una cosa in particolare, quando tu citavi prima questo approccio interdisciplinare che avete sul vostro programma di studi, chiamiamolo così in termini classici, ecco, chi ricorda in qualche modo un qualcosa che poi è tipico del bacino mediterraneo, delle grandi culture che si sono, come dire, raccolte intorno al pensiero dei socratici, prima poi pensiero di Gliarmi, fino al pensiero rinascimentale, no? Assolutamente, mi fa piacere che tu abbia fatto questo esempio perché è esattamente quello che io ho detto aprendo un convegno 3-4 giorni fa, la scuola ha questa struttura campus, noi abbiamo un campus meraviglioso che è poi il complesso di San Francesco che è stato... Quanti sono i ragazzi? Sono 138 al momento, nel campus che è stato rimodernato e completamente rifatto dalla Fondazione Cassa di Spamio di Lucca, quindi da Flarf, che è la Fondazione Lucchese per l'alta formazione e la ricerca, e il campus è proprio la struttura anche architettonica ideale con i pati per poter dialogare e discutere com'era nell'antica Grecia. Io ho fatto proprio questo esempio e ho detto noi vogliamo diventare sempre di più un centro di pensiero, di riflessione, di riflessione trasversale, com'era nell'antica Grecia, dove i filosofi, dove gli uomini di cultura, gli studiosi si occupavano in maniera trasversale, non c'erano i settori scientifico disciplinari, non è che non facesse solo matematica, faceva lo studio della scienza, la filosofia vuol dire questo, vuol dire amore della conoscenza, quindi si poneva il perché delle cose, cercava di studiare quegli strumenti dell'epoca, che erano soprattutto la riflessione e la conversazione, la dialettica, se leggiamo Repubblica di Platone, se uno legge Repubblica di Platone e lo legge bene, alla fine della lettura di Repubblica di Platone non è più la persona di prima che era prima, quindi è uno studio fondamentale, se leggiamo Aristotele, la riflessione, la discussione, la dialettica, la capacità di chiedersi il perché delle cose, di porre in discussione, di usare gli strumenti della logica. Noi oggi lo facciamo con strumenti scientifici ovviamente moderni, quindi in principio è quello, ma abbiamo oggi degli strumenti potenti per poter studiare i diversi argomenti in maniera trasversale. Bene, io credo che questa sia una cosa molto interessante anche per i nostri telespettatori, perché in qualche modo ci riconduce al centro del pensiero occidentale, in qualche modo. Esatto. Intiamo un pochino, appunto, ancora di più dentro questo ragionamento. Il cervello, il cervello da neuroscienziato è il suo materiale privilegiato, ma deve essere molto complicato ad entrerci dentro. Che cos'è il cervello? Dunque, cos'è il cervello? Il cervello è un organo che noi abbiamo nella scatola cranica, che pesa circa un chilo, un chilo e due nel soggetto adulto, e che io quando voglio dirlo in due parole, anche se rischio di appare un po' riduzionista, noi siamo il nostro cervello. Cioè il nostro cervello è quello che noi siamo, è quello che ci permette di vivere l'esperienza cosciente dell'esistenza, di entrare in relazione con il mondo esterno, di fare tutto quello che noi facciamo. E quindi noi siamo il nostro cervello. La mente è un prodotto del cervello. L'interazione tra diversi esseri umani, diverse persone in quel mondo esterno è quello che poi porta alla formazione di una società e alla formazione di tutto quello che abbiamo fatto nel corso degli anni. Vi devo fare un'altra domanda proprio su questo punto qui, prima di andare in pubblicità. Ma quindi noi siamo il nostro cervello. I nostri sentimenti sono in qualche modo, come dire, generati da informazioni che girano in queste benedette cellule cerebrali che voi studiate. Assolutamente. Basta vedere come i sentimenti possono essere diversi a seconda dello stato dell'umore, possono generare reazioni diverse, sentimenti possono essere modulati dalla ragione. Oggi è molto interessante questa domanda perché, per esempio, si discute molto su come possa cambiare la persona in seguito a certe esperienze. Tutto quello che noi viviamo come esperienza ci cambia. Oggi sappiamo che ci cambia anche nel modo in cui il cervello si rappole, le diverse cellule cerebrali, le sinapsi, i contatti tra cellule e cellula si modificano. Se io imparo qualcosa è perché quelle sinapsi si modifichano. Ora pensate che addirittura studi recentissimi mostrano che la mamma, cioè la femmina, dopo la gravidanza ha delle modifiche cerebrali che vanno a rimodulare dei circuiti cerebrali e a favorire delle connessioni che sono quelle che sottendono funzioni come l'empatia, la cura della prole, per così dire. Cioè diventa sposta il suo interesse. Ora pensiamo a quante persone dicono dopo la gravidanza, dopo il parto è diventata diversa, si cura meno del marito in un certo senso. In realtà è proprio la natura che predispone la persona a sviluppare di più certi sensi. Bene, questo è proprio un viaggio affascinante. Noi adesso ci interrompiamo perché abbiamo superato abbondantemente i nostri dieci minuti. Ci ritroviamo qui tra un attimo, subito dopo la pubblicità. Siamo di nuovo in studio con il professor Pietro Pietrini, direttore della Scuola di Alti Studi di Lucca e neuroscienziato. Stavamo parlando delle reazioni che esistono tra la nostra umanità, all'interno della nostra umanità, in qualche modo tra il cervello e ciò che facciamo, di modifiche addirittura di comportamento dell'informazione all'interno delle reti neuronali, in qualche modo. Il cervello è plastico, il cervello è in continua evoluzione, in continua cambiamento. Ecco, ma io mi sto chiedendo una cosa da questo punto di vista, ma noi si può studiare scientificamente il cervello come voi state facendo. Bene, molti di noi conoscono quella macchina che si chiama risonanza magnetica. È un processo per cui uno va lì, ma con quella tecnologia lì, voi riuscite a decodificare e capire il sentimento o no? Dunque, la... Forse è una domanda molto ingenua, però... No, no, è una domanda molto interessante. La risonanza magnetica, in particolare la risonanza magnetica funzionale, per chiarire per i nostri telespettatori, la risonanza magnetica è quello strumento che ormai si trova in tutti gli ospedali che serve ad acquisire immagini ad alta definizione, vuoi del cervello, vuoi di altri organi. Ora stiamo parlando del cervello. La risonanza magnetica funzionale fa qualcosa di più. Non solo acquisisce immagini come se fossero fotografie della fine struttura dell'architettura del cervello, ma misura la funzione, cioè riesce a sfruttare caratteristiche diverse che ha il sangue quando è ossigenato e quando non è ossigenato, quindi quando cede l'ossigeno ai tessuti e il consumo di ossigeno è un indice di attività neuronale sinaptica di quanto quindi funziona il cervello, riusciamo in un certo senso a misurare la funzione cerebrale con un'ottima risoluzione temporale e un'ottima risoluzione spaziale. In altre parole possiamo vedere che cosa succede quasi in tempo reale nel cervello quando un individuo guarda un'immagine, compie un compito motorio, prova la più profonda delle passioni e i sentimenti più vivi o pianifica come tenere a bada questi sentimenti o come pianifica il proprio futuro. E c'è quello che si dice di decodificare. Esattamente, questo ha permesso di arrivare, tra l'altro i primi studi li abbiamo fatti noi 15 anni fa, 16 anni fa, ha permesso di arrivare a un livello così fine di misura del segnale nervoso che in sostanza misurando il pattern di risposta neuronale, cioè il segnale nervoso, uno può decodificare che cosa l'individuo stia facendo. Quello che comunemente viene chiamato brain reading, la lettura del pensiero, la lettura del cervello. A me però viene in mente una cosa a questo punto, ma è la libertà, l'autonomia della persona, perché io mi devo sottomettere a una macchina. No, ma non è così, capisco l'autodomano, ma non è così, cioè non è l'autonomia della persona, nessuno viola la libertà personale, anche che basta non pensare a una cosa o non andare dentro la macchina e non succede nulla. In realtà perché è interessante il brain reading? Per una serie di ragioni. La prima è perché ci dice che, noi possiamo, siamo arrivati al punto che possiamo misurare un segnale nervoso con una tale specificità che io posso indovinare che cosa il soggetto stia guardando, stia facendo, che azione ha in mente di fare. O forse quello che potrà fare? No, quello che ha in mente di fare. Quindi io penso di spostare un oggetto, noi abbiamo pubblicato un paio di anni fa uno studio nel quale si vedeva che la percezione di un'azione che era per spostare un oggetto o prenderlo o farlo cadere aveva un codice diverso che io riuscivo a misurare. Ma perché è importante? Perché ci sono patologie dove la persona, si pensa alla sclerose laterale amiotrofica, si pensa alle tetraplegie o ad altre, ha difficoltà, ha impossibilità a portare all'esterno il proprio pensiero. E allora le moderne protese sono quelle, non certo con la macchina di risonanza, che è una macchina grossa, eccetera, ma con tecniche diverse che possono derivare da questa, quindi con delle cuffie che misurano finemente il segnale sullo scalpo cerebrale, il segnale elettrico del cervello, uno può pensare che pensando una cosa la protesi prende il bicchiere d'acqua e lo porta alla bocca perché io sto pensando che voglio bere. Sembra fantascienza, ma sono già studi in avanzata fase di realizzazione e qualcosa già succede. Quindi è portare all'esterno un segnale nervoso. La risonanza magnetica ci ha permesso però di fare una cosa ancora più in linea con questo, ancora più affascinante, perché fino a prima dell'avvento di queste metodiche di esplorazione funzionale il cervello in vivo in maniera del tutto non invasiva, quindi noi possiamo immaginare il nostro individuo è dentro la macchina di risonanza e può fare qualunque cosa, percepire un raggio di luce, fare un compito motorio anche semplice come questo, oppure risolvere un'equazione o decidere se quello che gli viene prospettato davanti è giusto o è sbagliato, è moralmente accettabile. Noi abbiamo fatto studi di, come dire, di giudizio morale. E questo ci fa capire quali sono le aree cerebrali e quali sono i circuiti cerebrali e le modalità cerebrali che portano a prendere una decisione di questo tipo. Ecco, allora vediamo una cosa di cui si riflette e non troviamo mai delle risposte precise. Il rapporto tra un sistema cerebrale e l'ambiente. Questo ha a che fare, vediamo un po', una persona, un bambino che nasce, faccio un esempio, in un ambiente negativo, delinquenziale, dovrà in qualche modo subire delle informazioni che non sono per noi positive, ovviamente, ha a che fare con un negativo. Come risponde il suo sistema? Dunque, questa è una domanda estremamente di attualità, perché si è sempre pensato storicamente che da una parte ci fosse la natura, cioè come siamo fatti, i nostri geni, la nostra biologia, dall'altra all'ambiente e che predominasse vuoi ora l'ambiente, secondo quelli che erano tutti, la sociologia, le cause sono sempre a cercare l'ambiente, vuoi il determinismo nella biologia. In realtà, quello che sappiamo oggi è che le due cose si parlano, c'è un collegamento, una relazione bionivoca che va da un senso all'altro. Per farla breve, gli studi recenti di biologia molecolare e di genetica molecolare ci dicono che noi abbiamo come esseri umani lo stesso genoma, ma evidentemente, essendo tutti diversi, abbiamo delle variazioni su questo genoma. Ebbene, ci sono geni che hanno a che fare con i neurotrasmettitori cerebrali, con la sintesi, il metabolismo di dopamina, serotonina, eccetera, che possono essere presenti in diverse varianti. Alcune di queste varianti modulano il nostro modo di rapportarci all'ambiente, cioè aumentano la plasticità nei confronti dell'ambiente. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se un individuo ha quella variante è più vulnerabile, più suscettibile agli effetti dell'ambiente. Se l'ambiente è positivo, questo può essere addirittura un vantaggio, riesce a prendere di più di quello che c'è positivo nell'ambiente, ma se è in un ambiente negativo, rispetto a chi non ha queste varianti, è molto più vulnerabile. E allora vede che geni e ambiente interagiscono, non è solo l'ambiente cattivo che fa diventare qualcuno cattivo per usare una semplificazione, ma c'è un dialogo, un dialogo costante. Ecco, allora, questo mette in discussione anche il concetto di predisposizione al male o al bene, cioè non si nasce santi, non si nasce demoni. Si nasce diversi, si nasce più predisposti a subire l'influenza di un ambiente o più resistenti. Se l'ambiente è positivo, direi che può essere uno svantaggio, se l'ambiente è negativo, essere più resistenti, essere più impermeabili a ciò che di male c'è nell'ambiente è un vantaggio. Però vorrei sottolineare questo che è molto importante, cioè ambiente e natura dialogano tra di loro. Pensa che da quando ci sono queste possibilità di fare studi di risonanza magnetica che ci permettono di vedere anche il cervello dei bambini in maniera non invasiva, la fine arborizzazione sinaptica che è un po' come dire i rami e le foglie che crescono su questa foresta di neuroni che è il cervello, quello che si è visto, lo si sapeva dai topolini, ma ora si è visto nei bambini, è che il bambino piccolino che non viene stimolato, che non viene abbandonato a se stesso, i bambini purtroppo che soprattutto in certi orfanotrofi in certi paesi sono lasciati per mesi, per anni in condizioni di scarsa stimolazione, hanno un'arborizzazione sinaptica, quindi uno sviluppo cerebrale meno ricco del bambino che viene stimolato. Guarda che mi dicono... Basta massaggiarlo, basta accarezzarlo, il bambino ha un'arborizzazione, c'è uno studio tra l'altro bellissimo di colleghi pisani condotto da un lucchese famoso che è il professor Lamberto Maffei, guidato da Lamberto Maffei, uno studio bellissimo e fa vedere che bambini prematuri che vengono massaggiati per alcuni minuti al giorno hanno uno sviluppo cerebrale, una maturazione cerebrale che è, come dire, più intensa e più veloce di quella dei bambini che non vengono stimolati. Molto interessante. Pensate che capacità ha il cervello di rispondere all'ambiente. Io ne ho fatti le altre domande ma rimandiamo alla prossima puntata perché... però vorrei ricordare che il tema del cervello è così affascinante che la Dana Foundation americana ha da anni stabilito, istituito la terza settimana di marzo come settimana mondiale del cervello. Nei parleremo alla prossima puntata. Perfetto. Grazie per essere stato con noi. Noi siamo stati in studio con il professor Pietro Pietrini, direttore della Scuola di Alti Studi e Neuroscienziato e la prossima settimana approfondiremo con lui questi temi di sicuro fascino. Grazie e arrivederci a presto. a presto.